Moto Days, una quinta edizione assolutamente importante, chiunque fosse in moto ieri a Roma sa perfettamente che giornata è stata, il diluvio, l'umidità, le misiere che si affannano, i binari del tram. Oggi, chiunque di voi sia qui in moto, che abbia la moto in testa, sa che qua non ci sono barriere, non ci sono confini alla fantasia, al desiderio. La parola piacere la sentirete molte e molte volte a partire dalle primissime parole che chiedo di pronunciare al presidente della Fiera di Roma, Mauro Mernocchi. Questa è la terra dei motori, è la terra delle moto, è la terra delle biciclette, è la terra dove le due ruote possono avere assoluta, totale, esclusiva libertà. Buongiorno a tutti, voglio ringraziare tutti i visitatori, i cittadini romani, di altri territori che hanno tolto questa occasione e ci fanno visita qui in Fiera di Roma a Moto Days. La nostra manifestazione, si vede anche da queste prime ore e da questi primi minuti di apertura, è diventata importante in Italia, un punto di riferimento del centro sud Italia, quindi voglio ringraziare tutti gli appassionati qui per la loro presenza oggi.